Faccio bene a tutti, qualche settimana fa intorno agli Imolesi i nostri bambini hanno fatto la prima comunione, hanno fatto una bella festa e vorremmo soffermarci per capire qual è il senso di questa festa? Comunione nel Santissimo Corpo e il Sangue di Cristo. E' una cosa molto semplice, Gesù attraverso la sua umanità che condivide con noi, essendo vero uomo e vero Dio, ci vuole portare a fare parte della vita della Santa Trinità, la vita della comunione, la vita divina, che chiede un cammino. Quindi comunione con Gesù e dunque con il Padre e con lo Spirito Santo. E come ci fa fare questo passaggio, questo cammino? Prima di tutto ci riporta a un rito, il rito che va a radicarsi anche nell'uso, nel costume dell'Artico Testamento, la cena Pasquale. Come dice San Paolo, lo spessare del pane non è in comunione con il corpo di Cristo e il calice della benedizione che benediciamo non è in comunione con il sangue di Cristo. Quindi il corpo di Cristo è il suo sangue, è la persona di Cristo che ci ha lasciato, la sua persona, la sua presenza concreta. Come dice Sant'Agostino, succede una cosa particolare rispetto a questo cibo. Perché mentre nel mangiare del cibo normale, noi assimiliamo il cibo a noi, in questo caso, quando mangiamo questo pane, il pane ci assimila a sé. Quindi diventeremo non pane, ma Gesù, che è il pane spessato per noi. Idem succede con il sangue. Quando noi beviamo questo calice, che è in comunione con il sangue di Cristo, ci assomiglia, ci assimila a Cristo. Questo è un aspetto legato a questo cammino. Il secondo è quell'altro aspetto che ci si chiama al servizio. Come l'aspetto della lavanda dei piedi, ci ha riportato San Giovanni nel tredicesimo capitolo, che ci chiede a essere solidari, a farsi vicino a chi soffre, a prendersene cura delle altre persone di noi e delle persone intorno a noi. Sempre in Romagna, qualche settimana fa eravamo sotto acqua. È stato colpito dalle frane e dal diluvio. E vediamo una solidarietà impressionante che è venuta dai giovani a tutte le parti dell'Italia, a farsi vicino a chi ha bisogno, a sparare, a spalare il fango, a spoccarsi le mani, diciamo in questo modo qua, spoccarsi le mani per il bisogno dell'altro. Ecco, che ci riporta al fatto che noi siamo una cosa sola. Uno è in comunione con il fratello, nella misura è in comunione con Gesù stesso, nello Spirito Santo, che è lo Spirito dell'unità che ci unisce nel sentimento, nel vivere, nella concretezza. e vivendo in comunione con Cristo, sopravviveremo alla tomba. Chi vive in me, vive per il Padre e lo risorgerò nell'ultimo giorno e non morirà, anzi. Quindi il cibo dell'immortalità che ci succhia il veleno della morte. Il cibo dell'unità che ci tiene lontano le frane delle divisioni della nostra vita, ci unisce e non ci separa. Il cibo della gioia che ci toglie ogni tristezza. Vuoi mangiare questo cibo? ci chiama alla comunione con il fratello. Ha il desiderio di incontrare Gesù, il desiderio di incontrare la famiglia, dei fratelli, dei amici. Il desiderio di andare verso. Perché la fede altro non è che l'amicizia amicizia con una A maiuscola. Che il Signore rimane con noi, che ci fa presente anche all'inizio di quest'estate, che facciamo l'esperienza di Dio che si spezza come pane per il bene di tutta l'umanità. Pace bene a tutti e buona estate. Grazie a tutti.